Quindi mini recap di questo Darmiano che abbiamo provato grazie a The Rock E' a dire, gran bel giocatore, un po' come le versioni speciali del passato Ne ricordo una versione che io spostavo a centrocampo full automatico Questo è molto simile perché è un gran bel body type, 5 di piede debole Fisico, veloce, passaggi molto buoni anche grazie alla quinta stella di piede debole Ma quello che impressiona di questa carta è l'aggressività, la presenza in game, la fisicità E l'automaticità, sradica il pallone che è una meraviglia, intercetta, molto molto presente Questo è il motivo per cui ve lo consiglio da DC ma volendo anche da CDC spostati in game Eviterei di far rifare il terzino all'esterno perché per quanto veloce è una velocità buona per un CDC o un DC Ma non per un terzino perché servirebbe più velocità Comunque molto valido, come si è inteso un'ombretta come voto per me lui è un 7,5 pieno Fatevi sapere i commenti qual è il nostro pratico, vi vedete, state buoni, alla prossima